Piccola società disoccupata, messo in scena al Teatro Morelli di Cosenza dalla compagnia piemontese Acti Teatri Indipendenti per la regia di Beppe Rosso, è un affresco della società moderna alle prese con il conflitto generazionale tra i giovani che faticano ad entrare nel mondo del lavoro e gli anziani costretti a rimandare il momento della pensione. Dalla traduzione di un testo francese di Remi de Voix, i personaggi della commedia si dibattono in una lotta senza esclusione di colpi per conservare o trovare un impiego in un contesto nel quale vengono rappresentate tutte le figure della sfera occupazionale, il precario, il senza lavoro, il freelance, l'occupato a tempo indeterminato e quello in via di licenziamento. È un problema e quindi il teatro in qualche modo affronta questo problema, lo affronta con una commedia, una commedia molto particolare fatta di frammenti che è messo insieme da come dire l'idea di questo mondo. Con lo spettacolo Piccola Società Disoccupata si è chiusa la stagione del Morve, il cartellone di teatro contemporaneo promosso da Scena Verticali in partenariato con il Comune di Cosenza. È stata una stagione molto piena, seguita, soprattutto una qualità degli spettacoli importante che abbiamo visto, insomma, il pubblico ha gradito parecchio. La funzione del nostro progetto non è guardare i numeri ma guardare alla qualità del rapporto anche con gli spettatori. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Salvatore Bruno per la Cineus 24.